Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo video faremo il riassunto del ventesimo film di Detective Conan intitolato l'incubo più buio, adesso partiamo con il riassunto. Una spia dell'organizzazione nera, nome in codice Kurasau, si intruffla negli uffici della pubblica sicurezza della prefettura di Tokyo, rubando le liste degli agenti NOC di MISX, BND, C-Size, FBI e CIA, che lavorano sotto copertura nell'organizzazione. Yuya Kazami, un funzionario dell'ufficio di pubblica sicurezza, la bracca di nascosto e Kurasau è costretta a scappare. Amuro tenta di impedire di scappare e poi si impegna in un inseguimento in auto sul Rainbow Bridge, con Akai che si unisce più tardi. L'inseguimento della macchina finisce per causare un disastro e Akai decide di sparare alla ruota del veicolo di Kurasau causando l'incidente della macchina e la caduta dal ponte. Kurasau fugge dall'auto mentre sta cadendo e atterra nell'acqua. Più successivamente affiora il Toto Aquarium, un parco divertimenti a tema di proprietà della Suzuki Saibatsu, vicino al luogo dell'incidente. Il giorno dopo i detective boys scoprono Kurasau al Toto Aquarium. Soffre di amnesia e il suo telefono è rotto a causa dello schianto della macchina il giorno prima. Conan recupera il telefono e scatta delle foto a Kurasau, inviandole a run, che a sua volta ne invia alla polizia metropolitana di Tokyo. Passa quindi il telefono ad Agasa in modo che possa recuperare i dati su di esso. I detective boys decidono quindi di rimanere con Kurasau per aiutarla a recuperare la memoria. Dopo aver notato le perfette abilità di Mira e di Kurasau mentre giocava a freccette e sul rapido gesto di salvare gente dal cadere da un luogo elevato, Aya e Conan notano che non è una donna ordinaria. Aya stessa ha la sensazione che Kurasau possa essere un altro agente dell'organizzazione. Nel frattempo, Agasa tenta di recuperare il messaggio dal cellulare rotto di Kurasau e scopre che ha tentato di inviare all'organizzazione i nomi di noti agenti NOC, ovvero Stout, Acquavit, Riesling, Barbon e Kir. Stout, Acquavit e Riesling vengono successivamente uccisi dai membri dell'organizzazione a Londra, Toronto e Berlino e Barbon e Kir sono tenuti in ostaggio a Tokyo. Quando la ruota panoramica su cui si trovano raggiunge la cima e i vari colori che vede scatenano una reazione, Kurasau urla anche i nomi di quegli agenti NOC di fronte a Detective Voice. La polizia metropolitana di Tokyo arriva in seguito e prende Kurasau in custodia trasferendola all'ospedale della polizia ma sono costrette a consegnarla alla pubblica sicurezza perché ritiene che fosse la spia che si infiltrò nel suo ufficio il giorno prima. L'ufficio si rende conto che Kurasau reagisce a determinati eventi nel Toto Aquarium e decide di riportarcela. La stessa notte, a bordo di un aereo militare Bell Boeing V-22 Osprey, l'organizzazione mette fuori uso l'elettricità per l'intero acquario e pianifica ad intercettare Kurasau quando la ruota panoramica raggiunge la vetta. Dopo che Kurasau riacquista la memoria osservando i colori specifici delle luci proiettate come aveva fatto poco prima, mette fuori combattimento Kazami che era sulla ruota panoramica con lei e fugge. Dopo aver recuperato la memoria però, Kurasau si rende conto di stare dalla parte del male e per l'affetto che provava nei confronti dei Detective Boys decide di passare dalla parte dei buoni. In un flashback scopriamo che Kurasau ha lavorato per l'organizzazione sotto il comando di Belmont, ma poiché il suo cervello registrava dati scomodi per l'organizzazione, Belmont stava per giustiziarla, ma Room decise di nominarla come suo braccio destro e di usare la sua memoria e intelligenza per scoprire gli infiltrati nell'organizzazione. Ha una sinestesia colore grafema che le permette di associare un colore a un fatto che deve ricordare, come i nomi delle spie. Successivamente salva I mentre quest'ultima sta per cadere e capisce subito che lei in realtà è Sherry, la scienziata che ha tradito gli uomini in nero. Poi c'è uno scontrapunni tra Barbon e Akai che verrà però interrotto da Conan. L'organizzazione tenterà di far detonare la bomba piazzata sulla ruota panoramica, ma questa verrà disinnescata da Amuro dopo essere stato informato da Conan. L'organizzazione cambia quindi piano e spara invece dall'elicottero cercando di uccidere Kurasau e destabilizzare la ruota, in modo che possa cadere e rotolare. Akai, con l'aiuto di Conan Amuro e del suo fedelissimo fucile di precisione, è in grado di abbattere l'elicottero e Conan tenta di fermare la ruota prima che schiacci l'acquario. Avendo notato che i detecti boss si trovano sulla ruota panoramica, Kurasau guida un camion con la gru e la ferma per salvare i ragazzi, ma le sue azioni fanno sì che la schiacci a morte. Prima della sua morte, Kurasau aveva confermato a Belmont che l'email manomessa da Conan e inviata dal suo cellulare rotto, che diceva che Barmon e Kir sono puliti, l'aveva inviata lei stessa, quindi i due sono in grado di mantenere la loro copertura nell'organizzazione. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, se il video vi è piaciuto lasciate like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, vi saluto, ciao a tutti!